Siamo fuori dal carcere Lorusso e Cotugno con l'Avvocata Valentina Colletta che difende la maggior parte dei ragazzi coinvolti nei fatti del 18 febbraio. Avvocata Colletta, innanzitutto come stanno i ragazzi? Sappiamo che Jacopo Emiliano dovrebbero essere sottoposti ai domiciliari col braccialetto elettronico ma questo braccialetto in questo momento non si trova, non è reperibile. Che cosa ci può dire, Avvocata? Io ho visto questa mattina Francesco che è quello per cui il Tribunale della Libertà ha deciso il trattenimento in carcere e non posso dire che sia sereno, è un ragazzo molto giovane del 2002, è un ragazzo del tutto incensurato, ha la sua prima esperienza in carcere che comprensibilmente non può che avere effetti traumatizzanti. Detto questo si fa forza e vedremo, cercheremo di garantirgli una presenza quanto più costante possibile. Dopodiché gli altri due ragazzi per i quali invece il Tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono a tutt'oggi in carcere perché non ci sono i braccialetti elettronici. Ho parlato adesso con l'ufficio matricola, non dipende dal carcere e l'autorità preposta al controllo che deve trovare i braccialetti elettronici sono già stati sollecitati ma ad oggi non ci sono riscontri. Non abbiamo la più pallida idea di quanto tempo ci metteranno e non sappiamo neanche in caso di, insomma cercheremo anche qui di parlare con la magistratura e capire, in caso di mancato reperimento dei braccialetti se l'autorità giudiziaria darà un consenso al trasferimento presso le rispettive abitazioni sia pure senza braccialetto, questo non lo sappiamo. Un'ultima domanda, il trasferimento al domicilio da parte di Jacopo Emiliano che è stato disposto dal Tribunale della Libertà che sia effettuato dalla Polizia Penitenziaria è una misura che destra qualche interrogativo, qual è il suo parere? Ma io sono, non so, è un'esperienza nuova, io ho sulle spalle più di vent'anni di professione e comunque non mi era mai capitato, insomma neanche per reati francamente molto più gravi ordinariamente chi esce agli arresti domiciliari non viene accompagnato, viene messo fuori e poi vada, naturalmente con l'obbligo e l'onere di recarsi immediatamente presso l'abitazione dove deve eseguire la misura. In questo caso è stato disposto l'accompagnamento a mezzo Polizia Penitenziaria, ripeto, è la prima volta che lo vedo, mi sembra anche questo un provvedimento francamente fuori misura, decisamente sproporzionato per due ragazzini che sono poco più che ventenni e che sono di fatto incensurati. E l'altra cosa sono le prescrizioni che sono state applicate a coloro che vanno in regime di arresti domiciliari che sono particolarmente gravose per cui paradossalmente hanno maggiori contatti qua in carcere di quanti non ne potranno avere quando saranno agli arresti domiciliari posto che gli unici contatti che potranno avere saranno quelli con i familiari conviventi. Teniamo a mente che sono tutti, da Francesco che rimane dentro e gli altri due che escono sono studenti universitari, anche lavoratori, quindi viene loro preclusa non solo qualunque forma di socialità che le misure custodiali tendenzialmente e ordinariamente limitano molto, ma si presume che gli arresti domiciliari siano misura meno afflittiva del carcere, nel momento in cui in carcere ricevono lettere e possono mandarne, questo non potranno farlo quando saranno a casa, così come non potranno attendere alle loro ordinarie occupazioni che sono principalmente, vista l'età, quelle universitarie, per cui avranno un percorso che verrà inevitabilmente sospeso nella migliore delle ipotesi e poi vedremo. Grazie Avvocata.